Dopo Federica, entrerà anche Alfonso nella casa del grande fratello I due ex, diventati noti grazie a Temptation Island. Ecco cosa ne pensano i fan Non è la prima volta che un protagonista di Temptation Island si ritrova come concorrente nella casa del grande fratello La scorsa puntata ha fatto il suo ingresso la bella Federica, l'ex di Alfonso La coppia si è presentata a Temptation Island pronta a mettere in discussione la loro storia d'amore Tra i motivi, l'eccessiva gelosia del fidanzato Tra i due le cose si sono concluse malissimo Temptation Island, finale amaro per Federica è Alfonso. Cosa ne pensa il pubblico, decidendo di frequentare il tentatore Stefano Dopo l'ultima puntata, Alfonso Signorini le ha chiesto di diventare una concorrente del grande fratello Il suo ingresso è avvenuto lunedì. Arriva oggi una notizia clamorosa, anche Alfonso è pronto per entrare nella casa Grande fratello, Alfonso entra nella casa. Cosa pensano i fan L'ingresso di Alfonso di sicuro, darà vita a molteplici clip e momenti esilaranti Tanti confronti e soprattutto litigi, coinvolgeranno e appassioneranno il pubblico Dopo la notizia però, molti telespettatori non hanno potuto fare a meno che notare una cosa Signorini, visto il successo dello scorso anno, vuole fare il bis? Mirko, Perla e Greta hanno notevolmente stravolto le sorti del programma Dopo il loro ingresso sono stati tantissimi i fan, incollati al televisore ogni settimana Federica, Alfonso e Stefano potrebbero regalare lo stesso risultato Chissà se, più avanti anche Stefano diventerà uno dei concorrenti Dopo l'ingresso della ragazza, sono partite alcune voci in merito ad un possibile interesse di Federica nei confronti di Javier Quest'ultimo sta soffrendo il comportamento di Shaila, ormai persa tra le braccia di Lorenzo Replicare lo stesso triangolo, potrebbe giovare al programma come spingere i fan, ad annoiarsi dopo poco Una cosa è certa, Alfonso ha letteralmente conquistato milioni di persone Il suo amore per Federica non smette di crescere e, nel suo cuore, c'è la speranza di un possibile ritorno Quale sarà la reazione della ragazza quando lo vedrà entrare in casa? Federica ha ribadito più volte il desiderio di poter vivere la sua vita da sola, senza le continue pressioni e gelosie dell'ex fidanzato Questa scelta presa dalla produzione di certo non si sposa con la sua volontà Inevitabilmente, a prescindere da come andrà, i due ragazzi stanno ottenendo una popolarità notevole I due programmi sono molto seguiti e amati dal pubblico, un momento particolarmente produttivo per loro Non vi resta che continuare a seguire le puntate del Grande Fratello Alfonso diventerà un concorrente ufficiale e questo alimenterà di certo, grande curiosità all'interno e fuori dalla casa I fan di Temptation Island sono in trepidazione, questi momenti sono da sempre i più amati